Stai bene? Sono Noah, della Lega dei Lecca Lecca. Beth, grazie mille. Un piccolo incoraggiamento dopo stamattina. Forse serviva tutto il barattolo. Tieni, questi dovrebbero andare. Tu sai cos'è successo con Joan? Se fosse restata, lavorando per un po', non se ne sarebbe potuta andare e basta. Non ha mai funzionato così qui. Tu da quanto ci stai? Da circa un anno. Mio padre e io eravamo messi male quando ci hanno trovati. Hanno detto che potevano salvarne solo uno. Per tantissimo tempo gli ho creduto. Ora ho capito. Papà era più grande, più forte. Si sarebbe ribellato. Era una minaccia. L'hanno abbandonato di proposito. E Don ha chiuso un occhio. Lei ha il comando, ma ha malapena. Ed è sempre peggio. È per questo che me ne andrò alla prima occasione. Ero qui per cercare mio zio. Mia madre mi aspetta. Dov'è casa tua? Richmond. Virginia. Eravamo al sicuro. Pensano che io sia belle ossa. Che io sia debole. Ma non sanno un cazzo di me. Di quello che sono. O di quello che sei tu.